Elisa Talentino, buongiorno. Ciao, buongiorno. Benvenuta, anzi bentornata qui nel posto delle parole per raccontare di immagini. In questo posto che è dedicato alle parole, invece con Elisa Talentino lo dedichiamo alle immagini e alle illustrazioni. Elisa Talentino, illustratrice. Ora, è una parola talmente vasta quella di illustratrice, e qualcuno potrebbe chiedersi, ma che fa una illustratrice da mattina a sera? In effetti chiesta così suona un po' strano. Intanto, purtroppo, un illustratore, al contrario di quello che si pensi, non illustra da mattina a sera. Sarebbe stupendo, però ci sono mille altre cose da tenere sotto controllo, da gestire parallelamente, perché l'illustratore innanzitutto studia, si documenta, fa ricerche iconografiche, legge. Insomma, la parte di ricerca è il lavoro forse più grosso quando si presenta una commessa, la possibilità di illustrare, che si chiama copertina di libro, come in questo caso un manifesto. E l'illustrazione diventa importante, perché quando Elisa Talentino ci dice che la parte di ricerca è importante, quindi quanto entra, Elisa, nella illustrazione che poi nascerà la parte di ricerca? Adesso non voglio dire che la parte di ricerca sia un copiare di qua e di là, anzi, tutto il contrario. Vuole dire mettere insieme le idee e creare un progetto che abbia una sostanza e una consonanza con quanto si vuole raccontare. Sì, bisogna documentarsi attentamente, anche perché nel caso, per esempio, dei libri con, faccio un esempio, ambientazioni storiche, esattamente come nel cinema, bisogna fare delle ricerche per capire quali erano i costumi dell'epoca, per non rincorrere magari in strafalcioni. E' necessario verificare il tipo di pubblico, al di là del periodo storico, il contesto in cui va inserita. Quindi è una parte, non so, direi che prende probabilmente il 50% del lavoro, la fase di ricerca. Qual è l'ultima scrittura, l'ultimo libro uscito o firmato da Elisa Talentino? Ah, adesso mi prendi preparata, perché io li preparo sempre un po' prima. L'ultimo lavoro, che non è un libro, è un'illustrazione per un giornale, è per il New Yorker, quello proprio più fresco. Forse quello prima è un libro che ho fatto per Ascette, Australia. Un racconto familiare, un romanzo che si snoda attraverso i secoli, vicende di famiglia, di donne. Queste sono le cose più fresche, le più recenti. E adesso arriviamo al perché. Noi ci troviamo qui insieme con Elisa Talentino per raccontare di un'immagine, di un manifesto, di un'immagine guida. Cioè l'immagine guida del prossimo Salone del Libro di Torino, edizione 2023. Com'è arrivata la richiesta di raccontare in immagine il Salone? Ma intanto è stata una grande sorpresa, l'ho accolta con immenso piacere, perché insomma Torino, anche la mia città, seguo il Salone da sempre, ci vado da quando sono ragazzina, quindi è stata innanzitutto una grande gioia. È stato il comitato tecnico, assieme al direttore Nicola Gioia, a pensare a me, a contattarmi. Dopodiché sono susseguiti una serie di incontri in cui ci si è confrontati su che cosa loro avevano immaginato dietro a questa suggestione di Carroll. E c'è stato poi il primo giro di Boz per cominciare a vedere quale poteva essere la direzione che doveva prendere. Inizialmente ci sono state altre immagini, più ma di questa, e poi insieme abbiamo trovato una via che teneva insieme alcune proposte fatte precedentemente, più un nuovo sviluppo che poi quello che è uscito, che avete visto. Ecco, il tema di quest'anno si racchiude in queste parole, attraverso lo specchio. E questa immagine in che modo ci fa attraversare lo specchio? E quindi noi ne siamo anche parte, Elisa Talentino. Io avevo immaginato come metafora dell'attraversare lo specchio una sorta di barcare il confine, immaginifico, mi era immaginato una porta temporale, oppure inizialmente ero partito addirittura da un abito un po' come il mantello dell'invisibilità che permette, indossandolo, di entrare in dimensioni parallele. Quindi alla fine quello che è uscito è stato un abito fatto di prato, è un abito disteso di prato che diventa poi la base su cui poter camminare. Abbiamo una ragazza vestita con questo abito di fiori che tende la mano a un'altra in un abito che può essere una vestaglia, una camicia da notte, quindi può essere letto anche come un'immagine onirica e le tende la mano verso questa nuova dimensione. Le due ragazze sono molto simili, io le immaginate come la stessa persona, quindi il nostro io fantastico, sognatore, che ci dà la mano per accompagnarci nel mondo della fantasia, della creatività. E ovviamente c'è anche Bianconiglio. C'è Bianconiglio, quello è un piccolo segnale celato, ma neanche troppo. Non poteva non esserci Lisa Talentino, il Bianconiglio, vero? Diciamo che non volevo mettere dei riferimenti troppo espliciti a Carroll perché non era quello il punto, perché insomma se ne era parlato e non voleva essere esclusivamente quello perché se no sarebbe stata fuorviante l'immagine perché attraverso lo specchio voleva avere una visione molto più ampia. E quindi ho pensato bene di nascondere questo piccolo musetto di coniglio che spunta da sotto l'albero, da sotto il vestito. Da sotto il vestito che è un vestito di paesaggio ed è questa la particolarità tra le varie di questa immagine che vedremo spesso da qui fino a fine maggio quando racconteremo e andremo ovviamente al Salone del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio, lo ricordo. Tra l'altro sono già aperte persino le prevendite dei biglietti, quindi è una cosa importante da sottolineare. È stato veloce arrivare a queste immagini, Lisa Talentino? No, la verità è che proprio veloce non è stato, proprio perché all'inizio appunto sono partito da un altro tipo di suggestione, abbiamo poi capito insieme, è stato un po' un lavoro di squadra, mettere insieme i pezzi e vedere il passo successivo, quindi prima di questa ce ne sono state altre circa tre. Ma si può sapere qual è stata per esempio la prima immagine che Lisa Talentino ha presentato, poi è chiaro che poi da lì in poi nascono le discussioni, il confronto, le variazioni. In che cosa era diversa la prima immagine rispetto a questa? Allora aveva già delle parti di questa qua, quindi c'era già un abito animato, fantastico, con fiori, però aveva una ragazzina sola ed era su un cavallo. Però non ci sembrava ancora un punto d'arrivo definitivo perché lasciava meno aperta la possibilità a una molteplicità di interpretazioni e quindi da lei ci sono stati poi ulteriori sviluppi e alla fine abbiamo ripescato dei pezzi e è arrivata poi quella giusta. Poi diciamo che l'idea di mettere i due personaggi mi è venuta poi riflettendo sul concetto di specchio, mi sembrava più adatto, mi sembrava che lasciasse più spazio a diverse interpretazioni. A proposito di quello che diceva poco fa Elisa Talentino dello studio, della ricerca e quindi l'inserimento della seconda persona che è poi la stessa se si vuole deriva anche da un pensiero e non è semplicemente un effetto estetico, peraltro molto molto bello. E adesso, fatta l'immagine del salone del libro, su che cosa si concentra l'attenzione di illustrazione di Elisa Talentino? Adesso c'è in cantiere un libro da qualche tempo, un libro personale illustrato e poi insomma alcuni, un po' di lavori in corso per delle mostre future che verranno, che per scaramanzia ancora non posso dire. Ma certamente, ma certamente, non dobbiamo, non dobbiamo, non dobbiamo dire, ricordo anche il sito Elisa Talentino.it dove ci racconta parte della sua arte, dove ci racconta anche dei disegni delle carte da parati che per me sono sempre affascinanti queste cose e che fascino ha la carta da parati? Immagino la casa di Elisa Talentino, in ogni stanza una carta da parati diversa, una cosa straordinaria, quasi un set fotografico d'ogni stanza o no? Allora, una piccola parte di verità c'è perché avevo una stanza con la carta da parati, non mia ovviamente, perché se me lo chiedo non usi cosa tu, la risposta è no, non riesco a tenere né quadri, né insomma carte disegnate da me in casa, un sacco di, insomma, vari lavori di altri colleghi stimati con cui spesso si fanno scambi di opere, quindi sono orgogliosa perché da un certo punto di vista si può dire di possedere una, di avere, è come avere una piccola galleria di persone che si ammirano. Però sì, la carta da parati è una grande affascinazione, un po' perché rimanda a queste case degli anni 60, delle nostre nonne, però senza esagerare, perché ormai con una visione contemporanea si usa con parsimoni, in piccoli dettagli, in zone circoscritte. Elisa Tarantino, prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo un Margaret Atwood, scusate faccio fatica, non mi ricordo l'ho sentito in italiano perché ho la versione in inglese, o vuoto, scusatemi. Non è un problema perché i vuoti quando si devono raccontare i libri arrivano ad ogni volta il canto di Penelope, il racconto dell'ancella, la donna da mangiare, ne dico alcuni che mi posso ricordare, la vita prima dell'uomo, spero di non aver sbagliato, occhio di gatto, uno di questi o di quant'altro. Non è uno di questi ma in ogni modo Margaret Atwood, straordinaria, straordinaria scrittrice, una delle voci più note della narrativa e anche della poesia perché non dobbiamo dimenticare le poesie di Margaret Atwood, straordinaria figura della cultura canadese. Intanto grazie davvero Elisa Tarantino e buon lavoro con le illustrazioni. Grazie a te, grazie a te altrettanto.